Uniamoci, insieme si può. Con questo slogan, l'Ital Service Pesaro Calcio 5 e l'Ital Service Loreto Basket lanciano la loro campagna abbonamenti congiunta che permetterà, con un'unica tessera fedeltà, di assistere alla regular season 2023-2024 sia della massima serie di futsal sia della serie B2 di basket. Quarta serie della pallacanestro nazionale costruita sull'avvento di Lorenzo Pizza prima da main sponsor e ora pure da presidente. Una presidenza che invece nel Calcio 5 Pizza ha ceduto lo scorso mese alla moglie Simona Marinelli, già dirigente di lungo corso della società Pigliatutto del Futsal. Due presidenti coniugi per un matrimonio sportivo sempre più votato a costruire doppi tifosi. Va in questo senso l'obiettivo di un abbonamento presentato al Gemelli Caffè Gastronomico di Borgo Santa Maria e pensato da Nicola Munzi Federico Ligi, direttore sportivo e general manager delle due società. È un'idea nuova, è un'idea che a me è piaciuta molto, è un'idea futuribile perché praticamente diciamo è un progetto che riguarda una tessera costituita su una vera polisportiva. Cioè noi abbiamo costituito e di questo tra virgolette in senso positivo ce ne vantiamo, c'è una grossa orgoglia per noi, una vera polisportiva perché abbiamo unito le forze di Calciacinque e di Little Service Llorito Basket. Quindi Calciacinque e Basket vanno di pari passo, vanno insieme, una tessera unica, prima volta diciamo nella storia della città ma non so se forse una delle prime realtà italiane che costituisce una società del genere, un'idea del genere, quindi chi sottoscrive questa tessera, incontriamoci, quindi una tessera fedeltà, una tessera amicizia può a prezzi veramente, veramente popolari andare a vedere tutte le partite del Calciacinque e quelle del basket. Qual è l'idea? Che tanti tifosi del Calciacinque vada a vedere in loro rete e viceversa. Questa è la nostra speranza. Il costo dell'abbonamento è di 80 euro per più di 30 partite a circa 2,50 euro l'una, come un cappuccino e un cornetto al bar di fiducia come recita appunto la Locandina. A sulle 50 euro si otterrà l'abbonamento ridotto dai 10 ai 17 anni compresi, mentre sotto i 10 anni l'ingresso alle partite sarà gratuito. L'abbonamento si potrà acquistare nei due locali gemelli di Borgo Santa Maria e Baia Flaminia, al negozio PS Sport di Villa Fastigi o prenotandolo con un messaggio WhatsApp da inviare a un numero dedicato. Calcio a 5 e basket che dunque puntano a viaggiare insieme con l'impegno della famiglia Pizza, applaudito verso la crescita dello sport cittadino da tifosi e dall'assessore Mila della Dora. Portare avanti questa stagione di queste due realtà che il Loreto è sempre più in crescita, l'Ital Service Calcio a 5 è sempre il nostro orgoglio e che si è sempre contraddistinta nel tempo per i successi, la serietà di questa società che fondamentalmente l'Ital Service è comunque sempre Lorenzo Pizza, io sono la moglie, è quella che cercherà di portare avanti nel miglior modo possibile tenendo sempre alto il nome di questa importante società perché è così che merita, appunto perché viene tutto l'artefice di tutto, il Deus in macchina, è sempre Lorenzo Pizza. Un matrimonio sportivo rafforzato dal fatto che si disporrà per il 2023-2024 di un'unica casa, quella del Palafiera dove traslocherà anche il Loreto Basket dopo la scorsa stagione disputata a Baia Flaminia. L'Ital Service continuerà a giocare il venerdì sera perché ormai diciamo è la sua serata, il suo giorno, la sua ora e quindi non tocchiamo niente. Il Loreto giocherà sempre al Palafiera domenica pomeriggio in alternanza alla VL, l'abbiamo fatto appositamente, ha fatto un grandissimo lavoro Federico Ligi perché ha mandato in federazione il calendario prima della VL per cercare appositamente di giocare in alternanza alla VL Basket perché qual è la speranza? Che tanti tifosi della VL che sono tantissimi, io l'ho sempre detto, sono meravigliosi, sono affezionatissimi, quando non gioca la Carpegna Prosciutti vengano a vedere l'Ital Service e il RIT.